Ben tornati su Appetizer, dopo un anno di nuovo un altro viaggio Nel paese dei puffi, i waffles e la birra E alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo venuti a Bruxelles Ci sono i puffi, c'è la birra, ci sono i waffles Sono qui io C'è Serena, Diego Maradona, Everywhere Stiamo andando un po' a esplodare il quartiere E dopo Maradona, Pizzeria Napoli Lo 2P Abbiamo preso una casa con Airbnb La host è stata super gentile Fortunatamente aveva un'amica che parlava italiano perché noi non parliamo mezza parola di francese Forse un po' Serena che è uscita uscendo con un... Buon appetito! Primo giorno a Bruxelles è finito, primo giorno mezzogiornata Quindi ci vediamo direttamente domani Secondo giorno a Bruxelles Allora dietro a me c'è la statua di Eberanzera Un erode del quindicesimo tempo Un braccio non è ossidato Se si tocca il braccio destro Ti porta fortuna insomma E di buona ospura C'è pure un'altra leggenda che dice Se tocchi dalla cintola in giù ti sposi Invece se tocchi dalla cintola in su ci si separa Adesso facciamo questo test e vediamo Serena dove tocca la statua La leggenda vuole che questo bambino ha fatto pubblico una bomba disinnescando la diciamo Perciò questa statua in suo onore E' magica Quando vuoi frustare i bambini cattivi che pisciano sulle bombe Adesso non ho idea di cosa facciamo Di cosa andiamo Di cosa mangiamo No, perciò quello tipo Si vediamo un po' di patatine Un cuoco enorme E praticamente con 4 euro Prendi le patatine con una salsa E abbiamo preso la mostarda E niente, famuna, famuna, famuna E poi E poi E poi Quindi E poi E poi E poi E poi E poi il muro due, bevendo due birre e prendendo due fish and chips diversi, vi assicuro che vi stazierete perché le patate erano tantissime, io le ho finite perché erano troppo buone e non le potevo lasciare perché erano un sacco, le salze erano molto buone, come ha detto Serena la salsa all'aglio era veramente, questa sera proprio all'amore ai tempi dell'aglio olio e perrocino abbiamo preso questo waffle che è un euro solo con lo zucchero ed è burrosissimo buono, domani non so arrivo qui a Bruxelles andremo a Bruges e quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, lasciare un mi piace, fate iscrivervi tutti gli amici, le mamme soprattutto, e voi mamme, iscrivetevi al canale, e ci vediamo al prossimo episodio questa sera ho baci appassionati antivamp pirla